Ti devo spiegare come usare il potere dell'antimismo. Pensa a una giornata di sole e pensa di avere 18 anni e tutta la tua vita davanti. E poi immaginati un rumore di freni che strisano, le urla della gente, il rumore di lamiere che si accartocciano e poi un dolore inimmaginabile. Una giovane donna di 18 anni va incontro ad un terribile incidente e al terribile dolore che ne consegue. Chiunque in quelle condizioni sarebbe stato vinto, spezzato nell'anima come nel corpo, ma non uno spirito forte come quello di F***. Nell'arco della sua vita ribadirà più volte che il disegno le dava la forza di andare avanti e insieme ai suoi parenti era la cosa che l'aveva aiutata a riprendersi. Nella sua vita piena di dolore e di lotte, l'artista messicana ha completato più di 150 dipinti. L'ultima cosa che scriverà sul suo diario è, spero che l'uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più. Storie di superpoteri che ci circondano.